Cristina Lisi del Mike Egaras Revolution, le vogliamo qua, le vogliamo sul nostro podio, eccole che arrivano. E allora noi vogliamo l'applauso per queste tre donne, noi vogliamo l'incitamento per loro e per tutte le donne che hanno partecipato alla nostra gara. Ci hanno regalato momenti emozionati, ci hanno regalato anche dei belli insegnamenti. Post gara con un abbraccio davvero bello, grazie ragazzi, facciamoglielo ancora un applauso. Ecco siamo al momento, pausa pranzo, tra un po' iniziano le premiazioni, sempre qui a Gadone Riviera, gara di montagna, Gabriele D'Annunzio. Organizzatore Ludoleży.